Bentrovati, buona serata, diamo seguito a un'iniziativa che è partita la scorsa settimana da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, iniziativa sempre connessi con i consiglieri regionali. E questa sera ho il piacere di avere accanto a me Angelo Costanzo, consigliere eletto nella circoscrizione di Sondrio e al suo primo mandato qui in Regione Lombardia. Bentrovato Angelo e grazie per aver accettato questa diretta. Grazie, il piacere è mio Fabio di farmi intervistare da te. Allora, raccontiamo un po' come hai vissuto questo primo periodo, questo primo scorcio abbondante diciamo di legislatura. Con quale spirito ti sei avvicinato a questa esperienza e a cosa ne trai al momento? Ma non nego che inizialmente un po' di emozione c'era, un ruolo prestigioso, importante, devo però dire che c'è anche un po' di delusione, soprattutto per i lavori all'interno dell'aula. Mentre quelli all'interno delle commissioni sono un po' più stimolanti all'interno dell'aula, purtroppo credo che il dibattito politico non sia l'altezza dell'istituzione che rappresentiamo molte volte. A proposito di dibattito politico, tra l'altro andiamo subito sull'attualità, perché il Corriere della Sera di oggi denuncia il fatto che si lavori poco, perché fa la media, cosa non nuova peraltro perché era già emersa durante la scorsa estate, fa la media delle sedute del Consiglio regionale e dice, insomma, cari consiglieri, vi trovate una volta ogni 15 giorni, non è un po' pochino? Sì, e a volte ci troviamo anche per discutere cose non sempre edificanti. Io credo che invece bisognerebbe ribaltare un po' l'agenda politica e mettere al centro le priorità che Regione Lombardia deve affrontare di fronte alla crisi. Vedo molta difficoltà nel campo della maggioranza del centrodestra, PDL e La Lega, nel fare questo lavoro e nel far diventare l'aula un vero crogiolo di necessità e anche di aspettative da parte dei Lombardi. Molte volte questo manca, però a noi che siamo minoranza è difficile imputare responsabilità in questo, il pallino, e la responsabilità è molto della maggioranza che gestisce le dinamiche dell'aula e attraverso l'aggiunta ogni tanto detta l'agenda, un'agenda che molte volte è in ritardo sui temi. Parliamo ora anche di sollecitazioni che ci arrivano da coloro che ci stanno seguendo via web su blogdem.it. Vi ricordo che proprio su blogdem avete la possibilità di inviare anche osservazioni, domande per questa mezz'oretta che passeremo in compagnia del consigliere Angelo Costanzo. Io partirei da Giovanni Botta che dice, dimmi qualcosa sullo svincolo tra 340 bis e raccolico chiavenna. Grazie. Domanda secca, che mette la prova anche il radicamento territoriale di Angelo Costanzo, ricordo, valtellinese. Domanda secca e anche molto tecnica. Allora, quell'incrocio è un incrocio di cui la progettazione iniziale era una grande giostra che costava anche molto in termini di risorse economiche. In termini di progettazione, di realizzazione si è un po' in ritardo rispetto al cronoprogramma di quell'opera. Io se avessi potuto fare una progettazione meno impattante dal punto di vista ambientale avrei fatta, poi non sono un tecnico e non ho le capacità per mettermi e cimentarmi con questi temi e non voglio nemmeno fare il tuttologo. Però credo che molte volte le progettazioni non tengano conto anche dell'impatto ambientale. È sicuramente un'opera importante per il territorio, magari qualche rotonda in meno sulla viabilità provinciale sarebbe anche utile. Ecco, a proposito di strade, innegabile che la Valtellina dal punto di vista dell'infrastruttura viaria è una zona particolarmente, chiamiamola così, sensibile o comunque chiede degli interventi significativi. Di parole se ne sono spese molte in questi anni. Al proposito, però, a meno a giudicare da quello che accade nei weekend più frequentati in Valtellina, i fatti tardano. Ma la colpa di quelle cose dobbiamo darcela un po' a noi, a livello territoriale, perché se abbiamo scelto un tipo di turismo che porta i turisti ad avere le doppie case nelle località turistiche, vengono il venerdì e tornano dietro la domenica, forse qualche errore anche di modello turistico lo abbiamo fatto sul nostro territorio. Resta il fatto che c'è la necessità di modernare le infrastrutture di tutta la vallata, a partire dalla Statale 38, ma penso anche la Statale 36. Qualcosa si sta facendo, però vorrei ricordare che anche qui siamo in ritardo di oltre un anno sulla realizzazione del primo stralcio dell'otto 1 della Statale 38 verranno realizzati 9 chilometri 600 metri con un costo di 280 milioni di euro. Forse anche qui si poteva pensare una cosa diversa. Io ho sostenuto per anni una battaglia politica di una strada più lunga che larga, che partisse dal Trivio di Fuentes e arrivasse al Ponte del Tartano, quindi a superare l'abitato di Morbegno e quello di Talamona. Credo che forse quella era l'opzione migliore, ma non perché voglio aver ragione. E purtroppo allora la battaglia fu tra una logica prendi soldi oppure li perdi per realizzare quel pezzettino di strada. Avremmo dovuto forse fare una scelta diversa, però anche qui la responsabilità è di chi governava allora. Ecco, tra l'altro, a proposito di trasporti, tema caldo è anche quello ferroviario. A livello regionale più in generale per le lamentele quotidiane dei pendorari, a livello più specifico della Valtellina, perché il fatto che esista una ferrovia fino a Tirano non risolve i problemi della valle tanto quanto probabilmente potrebbe. Io credo che il treno, anche all'interno del progetto di rilancio della Valtellina, a seguito di eventi calamitosi dell'87, veniva individuato il treno come la priorità per investire in termini di trasporto e infrastrutture. Purtroppo le dinamiche hanno portato a scelte diverse e quindi noi abbiamo ancora una ferrovia oggi, una situazione che non è sicuramente edificante. Io non voglio sempre sparare nel mucchio, Cattaneo continua a dire che noi abbiamo treni all'altezza situazione, io lo inviterei ogni tanto a fare qualche giro anche da noi sui treni locali. Però vorrei ricordare uno dei peggiori esperimenti fallimentari che Regione Lombardia e anche qualche attore locale ha fatto sul territorio. Sì, il treno della montagna, perché il treno della neve è conosciuto perché era fatto per portare i sciatori, i turisti da Milano nelle località turistiche che ha registrato una media di 36 utenti. Quindi un esperimento fallimentare di cui l'unico che si è assunto responsabilità e gli va dato atto e merito di assumersi di responsabilità è stato l'amministratore di Trenord, Biesuz. A livello locale sto ancora aspettando che qualcuno dica abbiamo sbagliato, perché io penso che non si possa puntare a una logica di un treno eccellente nuovo per i turisti e invece lasciar viaggiare i pendolari con carrozze che oramai hanno una media di 30 anni di età. Credo che sia inaccettabile, proprio come filosofia, perché prima bisogna dare un servizio quotidiano di qualità e poi si può anche pensare a cose innovative che magari potrebbero portare un turismo sostenibile in valle. Però bisogna rimeditare quell'esperienza, ma vedo che nessuno la ripropone, è come credo che non si proponga nemmeno il treno dei sapori in futuro rispetto all'Expo. Quindi vuol dire che l'errore forse è servito a far meditare bene cosa bisogna fare in termini di trasporto ferroviario sul nostro territorio. Ecco, intanto però la situazione sembra bloccata da un po' di tempo su questo fronte, o sbaglio? Sì, la Regione Lombardia ha venduto un ammodernamento di un po' di materiale rotabile, di alcuni vagoni, che in parte c'è stato, qualcosa si nota, ma certamente, lo ripeto, non è all'altezza di un trasporto ferroviario, di una nazione che continua a definirsi moderna ed efficace, soprattutto di una Regione come la Lombardia, dove chi governa a noi che facciamo opposizione continua a richiamarci sempre le eccellenze lombarde. Io sono un po' stanco di sentirmi le eccellenze e poi viaggiare con quei treni. Ecco, restiamo un po' sul territorio, territorio lontano dalla città di Milano. Ecco, come si vive da consigliere regionale questa dimensione un po' periferica? Perché il rischio è che nel dibattito mediatico soprattutto, ma anche poi nelle modalità con cui si discute in consiglio regionale, il fatto di stare a Milano influisca non poco e forse i temi legati a territori così lontani, tra virgolette, come quello valtellinese fanno fatica ad affiorare. Sì, a volte fanno fatica, però io ho sempre sostenuto una cosa, fin dall'atto dell'elezione, che avrei provato a lavorare in questa legislatura facendo una lobby sana del territorio, perché io credo che i temi della specificità dell'unico territorio interamente montano che è la provincia di Sondrio e le regioni di Lombardia dovrebbero contare di più. Non sempre è così. Lo abbiamo visto sulla questione del trasferimento del demanio idrico, quindi di competenze che non sono mai arrivate alla provincia di Sondrio, per non parlare poi del fallimento della legge regionale sulle concessioni dichiarate incostituzionali dalla Corte, però credo che bisognerebbe riuscire a far capire a Regione Lombardia che accentrare su di sé tutte le competenze delle diversità dei territori lombardi è un errore. Io sono per l'autogoverno dei territori e per chiamare responsabilità alle classi dirigenti dei territori, quindi trasferire maggiori competenze ai territori e alle amministrazioni locali, perché è così che si applica quello che molte volte viene sbandierato come federalismo, che invece rischia di diventare un centralismo regionale. A proposito di dinamiche del decentramento, un tema caldo è quello delle province. Anzi, facciamo vedere anche ai nostri amici che ci seguono, qui c'è una pagina proprio dedicata a questo tema Provincia, no al populismo della raccolta firme per lasciare che non cambi nulla, sia un riassetto istituzionale vero. Ecco, proviamo a spiegare un po' qual è la tua posizione relativamente a questo dibattito sulle province e anche alle iniziative che sul territorio si sono susseguite in questo ultimo periodo. Sì, la mia posizione è abbastanza chiara. Io non sopporto in politica il populismo e la demagogia e molto si sta facendo invece di populismo e demagogia su un terreno difficile che invece andrebbe ragionato con attenzione come quello del riassetto istituzionale. Io penso che in un territorio interamente montano, ma non solo interamente montano, che le province devono comunque avere una funzione e un ruolo eliminando quelle che si sono fatte in aggiunta, risolvendo il problema dell'area metropolitana di Milano, quindi i doppioni istituzionali che ci sono tra la provincia e l'area metropolitana. Però considero un errore, e non ho paura a dirlo, che il governo Monti sta facendo un grandissimo sbaglio nel trasformare le province enti di secondo livello. Perché io concepisco la democrazia e la funzione di amministratori se vengono eletti direttamente dalla gente, invece se vengono nominati e si autonominano attraverso nomine di secondo livello lo considero un errore, perché questo poi genera anche una classe dirigente che non va verso un ricambio attraverso un consenso elettorale. Però il tema della provincia è molto più complicato. Da noi la Lega che governa la provincia, assieme al PDL, anzi forse oggi non più assieme al PDL, ma assieme a un solo rappresentante del PDL, perché il Presidente della provincia ha aperto una crisi e ha tolto le deleghe ai rappresentanti del PDL tranne ad uno, ha scelto di fare un'iniziativa di raccolta firma per tutelare la provincia e salvaguardare la provincia. Io innanzitutto penso che le istituzioni non dovrebbero raccogliere le firme. Le firme dovrebbero raccogliere bene quando si va alle elezioni, diciamo così. Questo riguarda un tema regionale. No, ma il problema è proprio di ruoli istituzionali. Un'istituzione scende nelle piazze e si mobilita di fronte all'emergenza democratica. L'ho detto in una sala gremita di sindaci a Sondrio, lo ripeto qui. Le istituzioni vanno in piazza solo di fronte all'emergenza democratica. A raccogliere le firme devono andarci i cittadini, i comitati, i partiti, le associazioni. Lo considero un errore sia in termini di funzione istituzionale e un errore anche in termini di capacità di affrontare quel tema. Perché l'istituzione ha le proprie sedi per affrontare i riassetti istituzionali. Io avrei preferito che questo tema venisse affrontato nelle sedi istituzionali, facendo crescere una cultura istituzionale attorno al tema della necessità di superare l'attuale modello. Io continuo da una vita a dire che vanno chiuse e abolite le comunità montane perché sono enti a secondo livello che rispondono solo a dinamiche di consenso politico attraverso le risorse pubbliche. Penso altrettanto che il BIM vada soppresso trasferendo le risorse perché non bisogna essere così stupidi da perdere le risorse che il BIM oggi trasferisce alla provincia di Sondrio e però trasferendo quelle risorse a un ufficio dell'amministrazione provinciale e penso che l'altro tema vero di cui nessuno e pochi hanno il coraggio di parlarne è la necessità in regione Lombardia con i suoi oltre 1500 comuni ma anche in provincia di Sondrio con i suoi 78 comuni parlare di oramai unione dei comuni perché non reggono più comuni con 200 abitanti, 70 abitanti. Credo che qui sta il coraggio di chi amministra. Chi amministra non deve solo chiedere ai cittadini una firma deve dire anche ai cittadini cosa vuole fare e si è rinunciato invece di dire ai cittadini cosa si vuole fare e lo considerano un grande errore di strategia ma anche culturale dal punto di vista politico istituzionale. Come a punto di unione dei comuni però ci si scontra sempre con chiamiamoli campanilismi, chiamiamoli con specificità territoriali chiamiamoli come altro vogliamo perché ogni volta che ci si è avventurati in tema di unione dei comuni poi apriti cielo, lì raccolte di firme, storici locali che si esercitano in filippiche di vario genere ma il rischio è che alla fine ci si trovi nella quasi necessità di lasciare le cose come stanno. Questo è l'errore della raccolta di firme fatta così perché io non ho una pregiudiziale ideologica contro la raccolta di firme tra l'altro sono uno di quelli che ha firmato, ho una paura di dire che firmo per sostenere una provincia in un territorio interamente montano però questa operazione andava accompagnata assieme a una riflessione nelle istituzioni locali sull'attuale assetto istituzionale perché se si fa crescere la cultura di una necessità allora forse si arriva anche alla soluzione del problema se si continua a dire manteniamo tutto così com'è ognuno difende il proprio orticello è il rischio che nel frattempo il degrado istituzionale ma anche il degrado della qualità delle risposte che si danno ai cittadini peggiora e nessuno prova a ragionare sulla soluzione più idonea sia nel nostro territorio ma anche altrove oggi si parte dalle province perché le province erano quelle più facili da colpire perché sono un ente un po' più astratto e distante dai cittadini e quindi questa logica di populismo che ha pervaso il paese sin dalla campagna elettorale e delle ultime politiche perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che l'abolizione delle province era nel programma elettorale del PDL e con la Lega erano al governo e a ottobre lo stesso ministro Calderoli invitò qualche leghista che era contrario alla sua pressione ad adeguarsi alle posizioni del partito poi oggi che a Sondrio il presidente della provincia faccia il paladino della difesa dell'amministrazione provinciale quando al governo c'è Monti e non l'abbia fatto prima quando invece al governo c'era Calderoli e altri suoi amici forse un po' di strumentalità toccora questa vicenda c'è a proposito di questa vicenda della raccolta di firme Daniele ci scrive caro Angelo sembra che la raccolta di firme per il mantenimento della provincia di Sondrio sia un mezzo fallimento almeno dal punto di vista numerico non pensi ora che il PD e le amministrazioni comunali che gli sono vicine abbiano fatto l'ennesimo errore mancando ancora una volta di coraggio? non ho paura di dire di sì a Daniele perché io credo che su questo tema e l'ho detto anche all'interno del partito e delle riunioni che abbiamo fatto serviva veramente maggior coraggio tra l'altro l'ho scritto pubblicamente nel settimanale che esce in provincia di Sondrio perché ci tenevo a chiarire quella che era la posizione mia su questo tema lì serviva un'operazione di maggiore coraggio affrontando nelle sedi istituzionali la necessità del riassetto io ho fatto anche qualche esempio penso a alcune aree della Valtellina della Val Chiavenna che bisogna avere il coraggio di mettere lì l'unione dei comuni penso alla Val San Giacomo penso ai comuni a nord di Tirano penso ai comuni della costiera orobica o della costiera dei Cieca guardate io penso che la gente sia più avanti ogni tanto della classe politica il problema molte volte dei comuni è una logica di mantenere in sé una gestione di un territorio perché il problema del risetto istituzionale che si scontra anche nell'incapacità di cedere autonomia e sovranità da parte dei sindaci in funzione di un progetto più ampio di una visione di territorio montano è logico che passa il consenso passa attraverso l'edilizia la pianificazione urbanistica e nessuno quel terreno lo vuole mollare in funzione di una dinamica più grande però ripeto un problema culturale ma anche una sfida istituzionale il PD non deve sottrarsi a questa sfida e credo che forse qualche errore nel rincorrere troppo questa raccolta firme c'è stato sempre a proposito di queste tematiche Luca Vitali ci parla di altre proposte riguardo la soppressione del BIM ma poi fa un'altra considerazione per quanto riguarda la comunità montana Luca Vitali dice perché non pensare a una comunità montana unica qualora venisse soppressa la provincia Luca Vitali mi ha letto nel pensiero perché nell'ottobre dell'anno scorso quando allora il governo di centrodestra propone un disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province perché bisogna aprire una parentesi oggi le province non vengono abolite vengono trasformate mentre allora venivano addirittura abolite anche perché con questa trasformazione è più semplice il meccanismo istituzionale non bisogna andare a intervenire sulla costituzione così lo spieghiamo un po' anche a chi ci segue e dunque si è molto più pragmatici e meno ideologici in questo senso ma forse anche c'è il rischio che si raggiunga un risultato magari non ha auspicato Sì è un risultato che io non considero il massimo e giustamente il governo Monti di fronte a un disegno di legge costituzionale ha scelto la strada più percorribile che era quello di una trasformazione e non di un'eliminazione sì di uno svuotamento e di una trasformazione in enti di secondo livello però dicevo mi ha preceduto un po' nel pensiero perché a ottobre quando si parlava di chiusura del province io dissi bisogna tornare allora alla logica della comunità montana unica che in Valtellina era già presente tra logica la comunità montana unica poi si fecero le cinque comunità montane frazionando con la gestione di pianificazione del territorio e col senno di poi io penso che quello sia stato un grande errore perché ha portato a ulteriore frammentazione istituzionale io mi auguro e spero che si riesca a drizzare questa partita delle province con una provincia che assuma maggiori ruoli maggiore competenze e maggiore decentramento da parte di Regione Lombardia non mi pare che stia finendo così però io non vedo male nemmeno soluzioni di enti che si chiamino come li vogliamo chiamare però che facciano realmente programmazione territoriale perché il vero problema è che anche oggi la provincia così com'è per la frammentazione che c'è sul territorio non è nelle condizioni ho citato un esempio in quella pagina che ho preso su Centrovalle per dire cosa pensavo che il problema non è di chi governa oggi io non voglio fare demagogia rispetto a chi governa oggi certo con tutti i limiti che ha chi governa oggi però il problema è dell'assetto istituzionale anche quando governava il centro-sinistra non eravamo brillanti dal punto di vista delle capacità di mettere in campo azioni riformatrici perché il problema è la frammentazione perché quando si arriva al dunque della discussione sulla pianificazione territoriale urbanistica ogni piccolo comune e ogni comune fa prevalere il proprio campanile quindi c'è questa necessità di sfoltire in termini numerici ma anche di creare una maggiore cultura istituzionale Che ruolo a questo proposito potrebbe avere il centro nevralgico della Valtellina cioè il capoluogo, la città di Sondrio che ruolo potrebbe rivestire in questa logica della programmazione e nella prospettiva anche di riorganizzazione dell'assetto istituzionale del territorio? Sondrio in Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno che parlava di necessità di riorganizzazione istituzionale comunità montane, BIM poi secondo me è mancato un po' di coraggio perché nel nostro territorio c'è una logica che molte volte non condivido è quello di rincorrere sempre la teoria dominante io credo che in politica a volte bisogna avere il coraggio anche di dire di no al pensiero unico che ogni tanto sui territori prevale per esempio non ho apprezzato le posizioni abbastanza supine delle associazioni di categoria e di altre associazioni che di fronte a questa logica della raccolta di firme hanno detto di sì senza aprire invece un ragionamento vero alcuni lo hanno fatto ma lo hanno fatto in pochi e questa cosa qua non aiuta nemmeno oggi il mantenimento della provincia invece un ragionamento forte, serio su ruolo e funzioni avrebbe rafforzato ulteriormente il ruolo della provincia andiamo a toccare un altro tema molto molto delicato per quanto riguarda la provincia di Sondo che è quello del Parco Nazionale dello Stelvio perché su questa vicenda il Consiglio regionale si è pronunciato ma più volte in Consiglio regionale tu stesso hai sottolineato come non sia stato dato seguito alla presa di posizione autorevole del Consiglio regionale ecco cosa sta accadendo al Parco dello Stelvio? sta accadendo la cosa peggiore che dopo, uso un termine un po' forte un mercimonio che c'è stato tra il centro-destra prima del 14 dicembre del 2010 per portare a casa la fiducia del governo Berlusconi qualcuno fece l'accordo col partito da Sud Tirol for Spartan per scorporare il Parco dello Stelvio in tre province giustamente il Presidente della Repubblica ha detto no stop fermiamoci perché c'è a rischio la gestione unitare di un parco nazionale il parco nazionale è una delle grandi aree alpine il più grande parco nazionale che c'è in Europa noi abbiamo invitato a suppressioni del Partito Democratico mie direttamente perché provengo da quel territorio ma dallo stesso Partito Democratico che si sono resi conto che quello era un errore in termini di strategia e pianificazione della gestione di un'area protetta il Consiglio regionale ha approvato un ordine al giorno che impegnava il governo a non frazionare il parco in tre province all'interno della legge sui parchi l'assessore Colucci ha voluto forzare la mano la caduta del governo ha messo tutto in stand by il dramma vero è che oggi si rischia la paralisi perché il Consiglio di amministrazione non è più nelle condizioni di operare pensiamo a una situazione in cui non si capisce più qual è l'organo che oggi è gestito il Parco Nazionale dello Stelvio noi abbiamo chiesto l'intervento anche del Ministro precedentemente dell'ambiente e credo che questo è un tema che noi dobbiamo riprendere anche in Consiglio regionale Ecco ma sulle cantoniere della Statale dello Stelvio che vanno verso la provincia di Bozzangio sono le tue foto segnaletiche in quanto persona non gradita in Sud Tirol? No spero di no, io ho fatto una battaglia che non riguarda un'opposizione in confronto in altro territorio io credo che il Parco Nazionale dello Stelvio è un valore proprio perché è gestito con una visione unitaria perché bisogna ricordarsi che dentro la gestione di un parco non c'è solo il territorio ci sono anche programmi scientifici, investimenti che devono essere visti nella totalità della sua area che va tutelata e non frazionata perché qualcuno rivendicava con una logica molto politica e molto campanilistica una gestione singola del proprio territorio sul parco finirebbe l'esperienza del Parco Nazionale dello Stelvio e diventerebbero dei parchi regionali dove forse la regione Lombardia sarebbe quello che ne fa maggiormente le spese Parliamo ancora di territorio in ordine a un altro tema che è quella della tutela del suolo tema molto caldo in tutta l'area montana della Lombardia la storia recente ci parla di addirittura drammi, tragedie in Valtellina legate proprio al dissesto idrogeologico dal tuo punto di vista come sta la tua provincia in questo momento su questo fronte? Qualcosa si è fatto in termini di riassetto idrogeologico è seguito delle calamità dell'87 non bisogna sempre sparare nel mucchio e guardare sempre negativamente le cose credo che si poteva fare molto di più perché con tutte le risorse che sono arrivate in campo idrogeologico sul riassetto del territorio provinciale qualcosa di più e anche qualitativamente migliore si poteva fare si è forse cementificato troppo l'alveo dei torrenti che scendono dalla montagna creando forse ulteriori situazioni di pericolo poi c'è una situazione a cui bisognerebbe mettere mano che è il famoso bypass della frana di Spriana che è un'opera che rischia di rimanere incompiuta perché mancano 20 milioni di euro io credo che su questo tema siccome ragionando anche con esponenti locali autorevoli esponenti anche di associazioni che sono molto sensibili attorno a questo tema questo è un tema che va posto in consiglio regionale perché non può un'opera che è definita importante per la salvaguardia dell'abitato di Sondrio rimanere incompiuta veniamo ad un altro aspetto sempre della provincia di Sondrio quindi stiamo sul territorio visto che prima citavi la necessità di fare lobby anche territoriale veniamo al tema dell'agricoltura e dei prodotti delle trasformazioni da agricoltura quindi il tema enogastronomico se così possiamo definirlo e su questo la Valtellina ha molte carte da giocare però sembra quasi un'eterna incompiuta beh qui qualcosa si è fatto sul distretto agroalimentare devo riconoscere che rispetto a anni fa qualche salto di qualità lo si sta facendo e questo valore dei prodotti locali è una cosa che sta entrando culturalmente quasi geneticamente nelle persone che lì vivono bisognerebbe tutelare di più i suoli perché io ho visto alcune discussioni un po' troppo spinte sui pannelli fotovoltaici a terra che finivano nei prati e nei campi per fortuna alcuni non hanno trovato disponibilità da parte degli amministratori locali però le pressioni erano forti vedo con attenzione anche qui con un po' di rammarico che su alcune aree di pregio e cito una cosa che abbiamo discusso la scorsa settimana in consiglio regionale nella località Rainè di Bianzone si vuole fare una cava al posto dei prati io credo che è giusto tutelare un interesse privato ma l'interesse pubblico deve sempre prevalere e credo che in quella località sostituire a dei prati in un'area di pregio ambientale fare una coltivazione di una cava di ghiaia e di sabbia credo che sia un grande errore spero che quella situazione si possa recuperare ma mi auguro che la provincia proponga lo stralcio di quell'area perché senza una presa di posizione della provincia il rischio è che noi abbiamo un piano territoriale di coordinamento che è quel piano chiamiamo il piano regolatore provinciale per farci capire agli spettatori che dice che tutela i pesaggi e il territorio provinciale poi invece ci troviamo di fronte a dei scempi ambientali che rischiano di arrivare a breve sarebbero tanti temi però mi pare importante toccarne almeno uno che è quello della sanità perché il tema dell'organizzazione dei presidi sanitari in valle è sempre un tema caldo ecco qual è la tua visione su questo fronte? tra l'altro la domanda che viene come si dice a fagiolo perché domani il direttore generale presenta un piano di riassetto chiamiamolo così della rete ospedaliera secondo me c'è ancora molto da fare su quel piano di riassetto perché il vero problema per noi è riuscire a far capire a Regione Lombardia come sono riusciti quelli della Valcamonica che in un territorio montano non possono valere nella gestione dei presidi ospedalieri le stesse regole che valgono per il Niguarda per il Monzino e per altre strutture ospedaliere uno per le dimensioni territoriali uno per le dimensioni di utenza che accedono alla struttura e per i costi che sono totalmente diversificati la Regione continua a promettere che sul territorio provincia di Sondrio mantiene quattro ospedali io continuo a dire che è una promessa che non sta mantenendo oppure la mantiene di facciata ma non la mantiene dal punto di vista qualitativo per noi dobbiamo essere onesti dobbiamo dire che oggi quattro ospedali di quei quattro ospedali non tutti garantiscono una sanità di eccellenza e di qualità e quindi bisognerebbe riflettere anche sul modello della rete ospedaliera noi abbiamo avuto l'esempio e purtroppo con la situazione spiacevole accaduta all'ospedale di Morbegno l'anno scorso dove addirittura una struttura è stata evacuata per qualche periodo o per qualche breve giorno perché sembrava addirittura a rischio a crollo oggi siamo ancora in fase di attesa dovrebbe arrivare la progettazione definitiva e poi partire i lavori con un investimento di 6 milioni di euro però io vorrei fare una domanda sia all'assessore Bresciani che al direttore generale va bene spendere 6 milioni di euro ma bisogna anche chiarire alla gente di quell'ospedale cosa se ne vuole fare perché il rischio è che finisce come le camere operatorie di Bormio durante l'alluvione mai utilizzate di Tirano 12 miliardi di vecchie lire poi mai utilizzate allora attenzione a non investire per poi andare verso le chiusure io credo che i soldi pubblici vanno spesi bene prima chiariamo anche cosa si vuole fare di quella struttura a partire dalla rete dell'emergenza e dell'urgenza e del pronto soccorso perché oggi già così come è configurata quella struttura io faccio fatica a intravedere un pronto soccorso vero e proprio il rischio è che diventa un punto di primo intervento che è la cosa che nemmeno i sindaci locali vogliono perché vogliono una garanzia di qualità soprattutto di fronte all'emergenza e urgenza mi sembra che ci sia ancora molta strada da fare allora sul riassetto delle strutture sanitarie è credo l'aspetto più complicato e difficile da gestire sul nostro territorio però vorrei che Regione Lombardia abbia il coraggio di dire che anziché fare un'azienda ospedaliera e un'azienda sanitaria locale si unificassero due gestioni e si adottasse in provincia Sondra un modello della Valcamonica che oggi in un'area montana come la nostra vede un modello gestionale diverso non si capisce perché di là hanno tenuto un modello gestionale diverso e noi continuiamo ad avere regole uguali alla grande metropoli Siamo in chiusura un'ultima sollecitazione su cosa ti prefiggi di impegnarti nei prossimi mesi qui in Consiglio regionale insomma quali sono i tuoi obiettivi a breve? Ma i temi sono molti perché è un territorio seppur una provincia più piccola e anche un po' periferica di Regione Lombardia ha moltissimi temi da trattare credo che quello più importante è quello dell'energia noi siamo andati di fronte a un grande fallimento che è stata la legge regionale sulle concessioni idroelettriche una legge voluta più per vendere un obiettivo politico da parte della Lega che un risultato concreto tant'è che quando noi io lo dissi in aula a nome del gruppo che quella legge rischiava di essere incostituzionale purtroppo la Corte Costituzionale alla fine ci ha dato ragione quello è un grandissimo fallimento che però non può rimanere un fallimento va ripreso in mano il tema dell'energia perché la provincia di Sondro fornisce oggi oltre il 50% dell'apporto energetico regionale e credo attorno non vorrei dire una cifra inopportuna ma dal 13 al 15% dell'apporto energetico nazionale e quello è il tema su cui la Valtellina deve puntare io la battaglia che vorrei fare è la battaglia che ho fatto il primo giorno seduto in consiglio regionale il primo giorno ho depositato tra l'altro assieme al consigliere della Lega Ugo Parolo che ha eletto anche lui in quella circoscrizione una legge che parlava di trasferimento del demanio idrico alla provincia quella legge è lì ferma per volontà della maggioranza ferma ma a fronte della bocciatura della legge sulle centrali sulle concessioni idroelettriche credo che quel tema vada riposto e mi auguro spero che possa trovare compimento credo che si farà fatica a far capire a Formigoni che deve cedere anche lui un po' di sovranità ai territori perché è uno che è molto centralista da questo punto di vista Bene io ringrazio voi che ci avete ascoltato e che tra l'altro potete anche far girare la voce potete rivedere questa mezz'oretta di intervista con Angelo Costanzo su Blogdem a partire dalle prossime ore perché manterremo proprio tutto il repertorio delle immagini e dell'audio naturalmente di queste interviste settimanali ringrazio Angelo Costanzo vi faccio i migliori auguri per l'attività di consigliere regionale pendolare tra Sondrio e Milano ma si fa fatica? No adesso noi bisogna dirlo la gente noi siamo dei privilegiati a poter sedere nel consiglio regionale quindi anche tutte le fatiche bisogna evitare di dire che che questo venire a Milano diventa un sacrificio venire a Milano per noi è un privilegio Bene grazie ancora dunque Angelo Costanzo grazie anche da parte mia che sono Fabio Pizzul e che importuno e poi i miei colleghi consiglieri regionali grazie a Valeria Vercelloni e Marco Chiappa che non vedete ma rendono possibile questa diretta e ci vedremo a questo punto la prossima settimana o quando vorrete ricliccare blogden.it per rivedere queste interviste alla prossima grazie a tutti